Ciao raga bentornati sul mio canale youtube, mercoledì significa questo o quello e come tutte le cose belle c'è sempre una fine di fatti questo sarà l'ultimo appuntamento per questa stagione con questo o quello perché di fatti raga ormai carte nuove al momento non verranno rilasciate quindi le domande bene o male sono sempre le stesse, valutiamo magari di fare qualche video mirato qualora dovesse riuscire appunto carte speciali tipo per gli europei eccetera eccetera però questo o quello per questa stagione volge al termine, a dire la verità mi ha fatto piacere ricevere i vostri commenti, rispondere alle vostre domande, risolvere i vostri dubbi tornerà sicuramente l'anno prossimo come rubrica qui sul tubo appunto per farvi compagnia e aiutarvi nelle vostre squadre eccetera eccetera senza perdere troppo tempo passiamo subito a vedere quelli che sono gli ultimi dubbi da risolvere e cercherò di rispondere appunto a tutte le domande che avete lasciato proprio per concludere in bellezza questa stagione di questo o quello quindi passiamo subito e abbiamo la prima domanda che ci fa John ossia come disporresti in un 4-4-2, in un 4-3-1-2 Neymar, Bappettotti, Atal e Sancio? allora per quanto riguarda il 4-4-2 vai a giocare tranquillamente Mbappé e Atal da punta mentre giochi Neymar e Sancio da esterni per quanto riguarda il 4-3-1-2 invece giochi Mbappé e Atal ancora una volta da punta metti Neymar C e mi adatti Sancio da Cc magari potresti dire perché non Atal da Cc perché secondo me Atal è troppo importante e deve stare davanti la porta se invece vuoi stare un po' più coperto metti Atal al centrocampo e Sancio da punta Amico Felicio nel 4-3-1-2 è buono il centrocampo con Angolan Flashback che sia Barella o cambi qualcuno con Vidal è un ottimo centrocampo amico però per me Vidal è più forte di Barella visto le 5 skill e il 4 dei piedi debole quindi opterei più per Arturo Bella Fra Quali sono i migliori Cc in circolazione dei campionati più importanti a prezzo sotto i 250? Migliori ATT e Cdc, Aikon magari non oltre i 500? Allora per quanto riguarda i Cc, Bella ti dico, per quanto riguarda i campionati più importanti per me si può andare tranquillamente a prendere ancora un Renato versione Europa League si può andare tranquillamente a prendere una War in versione SBC che ha appena uscito si può andare tranquillamente ad acquistare anche magari un giocatore come Marco Siorente quindi i giocatori secondo me di livello ci sono, anche questo Andrea della Ligana non è male poi il budget è sempre quello che è Per quanto riguarda invece gli ATT e Cdc, Aikon non oltre i 500k secondo me non riusciamo a trovare nulla di effettivamente valido in attacco per quanto riguarda il centrocampo con un piccolo sforzo economico in più ci si porta a casa Petit Prime Moments che per me è un centrocampista veramente con gli attributi quindi opterei su di lui Ivan Rossi Niente, solo un saluto stai sempre in live Grande Ivan, gentilissimo Michele invece chiede Il miglior ATT Icon con 800k Ecco, con 800k qua si riesce tranquillamente ad andare a prendere un Dalglish in versione SBC Moments che è per me, sapete, un giocatore veramente incredibile visto anche il rapporto qualità-prezzo Ale unicona Cc sotto i 250 credo che l'unica pseudo decente sia Seedorf il baby va benissimo Nicola Santogliani in una difesa a due chi scegliere tra James Campbell, Ruben Dias e Ake Shadown per com'è il mio gusto personale andrei a scegliere Ake e James E Jovi Ciorib è un icon che faccio da Cicino un 4-4-2 con Don Belè massimo 500k oppure uno con nazionalità francese io veramente ma non ti fa impazzire come ho detto al ragazzo in precedenza Jovi con quella cifra da icona puoi andare su Petit Prime Moments altrimenti se vuoi andare a prendere uno di nazionalità francese è uscito questo andare che per me è molto valido o potresti sbloccare tranquillamente la sfida di Aouar che è ancora meglio DT tu hai questa squadra con il 4-4-2 ossia hai Donnarumma terzino sinistro Teo difensori centrali Vidic e De Vrij terzino destro quadrado Muriel Toz e S Cicci Vidal e Barella e Dilo Zano Mertens e Lautaro da punta guarda io ti consiglio di cambiare sicuramente Vidic base anche solo con un Romero Toz che per me è superiore quadrado If col Toz che è 100x e poi si potrebbe pensare di andare a fare un cambio al centrocampo andando a inserire un Chessi al posto di Barella secondo me te la cavi meglio Marco Crnkovic non ho idea di come si pronunci Marco abbi pietà di me coppia di attacco Müller e Vamangituka o Müller e Barnes guarda io ti direi Müller e Barnes semplicemente per il fatto che Vamangituka ha sì 5 di skill ma ha 3 di debole mentre Barnes invece è un po' più completo Vamangituka è un giocatore che vedo più sull'esterno onestamente Fabio Pagan meglio Smalling o Tomori Lozano Toz può fanchiare un alto in attacco dato che gli hanno aumentato il piede debole grazie Ribe allora per quanto riguarda la difesa se hai bisogno di un giocatore più automatico ti dico Smalling se invece preferisci difendere in maniera più manuale per quanto riguarda Lozano è un 4-4 preferisco giocarlo da esterno ma può essere utilizzato anche come seconda punta Giuseppe secondo te in difesa se hai Davis, Van Bissaka, James e Arnold chi usi DC e chi terzini Trent è scambiabile guarda onestamente io toglierei Arnold lo venderei mi auguro che tu abbia sbloccato Walker perché andrei a piazzare Walker magari da terzino o puoi andare tranquillamente a prendere anche Cancelo così fai Davis, Van Bissaka, James e ti vai a prendere Cancelo oppure puoi fare anche un'altra cosa puoi fare Davis, Bissaka mi piazzi il Gomez che è uscito da DC e James me lo giochi terzino se non scambiabile lo vendi anche James e prendi anche Cancelo quindi la svolterei così Pierfrancesco chi ha centrocampo tra Llorente e Viera Renato De Bruyne e che sì se te ne servono due io onestamente direi tutta la vita Viera e uno tra Renato e De Bruyne a seconda dei tuoi gusti se invece te ne serve solo uno Viera Lory chi usare da DC tutti non scambiabili Gosens, Skriniar, Bastoni o Romero se te ne servono due tutti non scambiabili io ti dico vai su Bastoni e su Gosens Skriniar scusami su Romero e su Gosens purtroppo Skriniar non può circolare Bastoni non è niente di eccezionale Davide Campagnolo Barella Totsna in Golan o Renato se ne devi scegliere uno ti dico vai di Renato Andrea Meucci in un 4-2-2 meglio Mbappé o Son punta a fianco a Suarez considera che con Mbappé useresti Teo Terzino mentre con Son Reguillon What if allora per quanto riguarda Mbappé io onestamente lo preferisco a Son perché ha le 5 di skill quindi nonostante non abbia il 5 di piede debole sapete che quest'anno è la roba che preferisco ed è molto più in meta quindi visto che utilizzeresti anche Teo che è molto meglio di Reguillon vai così Simone Longo un attaccante che Fentesac o con Kimmich o Paiet prezzo massimo 200.000 crediti beh onestamente è un po' pochino potresti pensare di sbloccare a War e giocarlo da seconda punta magari Giorgio Vitale la mia squadra è Donnarumma Smalling Romero Teo Quadrado Nangolank e Sinsigni e Lozano davanti Lautaro e Dibala vorresti mettere Romertens o Insigni vicino a Lautaro ma guarda per quanto riguarda poi la difesa dove hai Tomori e De Vrij più loro 2 e Smalling io ti dico rimani con Romero e Smalling mentre per quanto riguarda davanti io preferirei sempre andare a prendere un Cristiano Ronaldo che è la carta migliore in assoluto non solo in Serie A ma anche uno dei migliori attaccanti quindi andrei di Lautaro o Ronaldo Cortex ciao meglio Atal o Lozano o Toz come Eddin un 4-4-2 come S invece è meglio Insigne Chiesa o De Olofeu allora da esterno destro puro io ti dico Lozano nonostante non abbia il 5-5 come Atal ma lo trovo più scattante in fascia come esterno invece ti dico meglio Insigne onestamente King chiede come coppia d'attacco chi metteresti tra Dibala Cristiano Lukaku e Martinez non skilli tanto va bene che non skilli tanto però io andrei a utilizzare Cristiano e Lukaku secondo me Andrea Iardi qual è una parte di campo in cui un giocatore può giocare a 7 intendo sempre tenere un attaccante centrocampista o difensore allora diciamo che l'ideale sarebbe tenere un attaccante o un esterno fin tesa però si può tranquillamente mettere anche un centrocampista o un difensore diciamo che per quella che è la mia preferenza diciamo personale andrei a mettere un attaccante Rene Pericoli meglio Davis Tots a 10 o Teo a 7 avendo DC Vambissac e Roberto Carlos io dico vai tutta la vita su Davis perché Teo l'ho provato mi è piaciuto di più da terzino mentre quel Davis è veramente totale Adriano Cavallaro Rio Ferdinando Van Dijk Toti Van Dijk Toti Riccardo invece chiede chi mette C o C tra Zola Dalgrish Okocia vai tutta la vita di Okocia che ha 5 di skill ed è anche un buon passatore Paolo Mazzarella a fianco al Toro Tots consiglio Ronaldo base un Muriel tutta la vita Ronaldo Cristian invece tra Nainggolan e Vidal Vidal Gamerplay Cioribete Headliners Van Bissaka Walker Cancelo James di lasciarne fuori uno impostare la difesa guarda io utilizzerei Teo da terzino sinistro Van Bissaka e Walker da difensori centrali e Cancelo da terzino destro va per base 8 Ronaldo a 10 Ronaldo a 10 Paolo Fullone attacco con Cristiano Lozano Insigne e Chiesa come risposto in game in caso di 4-2-3-1 e 4-4-2 allora nel 4-2-3-1 mi metti Cristiano punta Insigne e C-O-C Lozano e Chiesa larghi nel 4-4-2 mi giochi Cristiano e Insigne da punta con Lozano e Chiesa esterni Antonio ci stanno il Ninja Barella e Kuluseski al centrocampo sì assolutamente soprattutto Kuluseski arrangiato ci sta Max scegli tre centrocampisti tra Vidal Nangolan Kimmich Toti e Barella io ti dico Vidal Nangolan e Kimmich Toti quindi i primi tre Notorious Meio Vambissago Walker da DC io ti dico Walker mi è piaciuto di più Fabrizio modulo 4-2-3-1 Donnarumma da Lotteo Smalling quadrato Ninja Vidal Chiesa di Balla Lozano Ronaldo tutti gli altri le versioni migliori perfetto allora per quanto riguarda questa squadretta io onestamente opterei per togliere il di ballone nazionale e andrei a prendere un Insigne da utilizzare C-O-C che è un 4-4 quindi è più versatile Fede Biga Lautaro Lukaku Lukaku Barella Depol invece ti dico Depol che è un po' più totale rispetto a Barella che magari è un po' più limitato Leonardo Bellaribe Roschi è meglio il latte freddo o caldo maledizione io il latte non lo prendo perché non mi piace raga al massimo un pizzico dentro al caffè Samuele Bellaribe Carrasco Toz C-O-C nel 4-3-1 può ancora circolare o meglio aspettare mettere a sardo C-L ma io onestamente Carrasco da C-O-C per via della sua agilità non lo gradisco quindi direi puoi anche mettere un azard Leopoldo in un 4-4-2 meglio Ronaldo Toz Muriel entrambi trovati o Cristiano Palasio e per quanto riguarda il centrocampo vorresti prendere Chessy ma non sai a chi affiancarlo allora visto che non hai Vidali io ti dico Chessy Barella ci sta perfettamente per quanto riguarda il davanti io ti dico Cristiano Palasio perché è più agile rispetto a Muriel è anche la quinta skill vicino a De Jong tra questi mettere Renato Joxy mentre Mike come disporresti avendo tutti questi giocatori non scambiabili Alaba Zagadou Davis Mbappu Quadrado Moreno Quadrado che credo poi sia Romero questo Moreno e Zambrotta allora io onestamente giocherei Davis Alaba poi piazzerei Zambrotta DC a 7 d'intesa e come terzino metterei Quadrado quindi me la giostrerei così in un 4-3-1-2 meglio De Paul non scambiabile mezzala di destra Barella De Paul se ti serve una mezzala Iro mentre Luca chiede in un 4-2-3-1 a centrocampo in coppia con De Jong meglio Barella o De Paul nel 4-2-3-1 dico Barella che è più difensivo Marco invece nel 4-3-1-2 mi consiglio di questi cc come posizionarli Renato Bruno Aguar Andre Vazquez come cc meglio Mare sono di quelli sopra allora io giocherei con Renato e Bruno Mezziali Andre Toz cdc e Aguar me lo giocherei da anzi no fai così fai Renato cdc Bruno Aguar Rosario Lautaro Mertens dico Mertens se ce l'hai non scambiabile va bene uguale Marcello Atalo Lozzano a destra Lozzano mentre a sinistra meglio Neymar o Chiesa o Insigne Neymar perché 5-5 Teo Edliner Nero il Toz se hai crediti prende il Toz ovviamente che è più forte Francesco Faro chi mi consigli come Icon Ciccino un 4-4-2 budget 400k aspetta un pelo e vai su Petit Prime Bombenzo altrimenti puoi prendere anche un Blanco 85 se riesci come TS sinistro Alberto meglio James Reguillon o Walker da terzino onestamente direi James perché Reguillon non mi piace Walker è meglio da DC Francesco meglio la coppia Renato Davis o che si Toz Teo utilizzando Renato Davis Riccardo come difesa è meglio Babu a 10 e Walker a 7 e poi Zambrotta e Roberto 1 a 7 e 1 a 10 oppure mi faccio Gio Gomez e mi metto quel Gomez con Walker a 10 con Cancelo io farei tutta la vita la seconda Ricca messo CDC Renato Europa League o Andre Toz secondo me Renato Europa League è ancora superiore Riccardo Cao invece chiede mi serve un Icon da mettere esterno da mettere in partenza a CC ma semplicemente prendi un attaccante magari un cacato lo arretri a centrocampo e lo fai giocare da esterno ultimo commento di questo o quello versione Toz di quest'anno in generale per FIFA 21 Salvatore Volpe con il 4-3-1-2 difesa Teo Alaba Kimpempe Lazzaro Goretzka War Muller a centrocampo Dani Olmo e Belipunte Besta CC 300k da spendere allora per quanto riguarda la difesa secondo me sei molto clean ci sei io punterei a sostituire quel Dani Olmo da punta potresti fare anche Dani Olmo da CC e Best da punta onestamente però 300k su pochini opterei più ad aspettare magari vai a prendere poi un upgrade un po' più pesante come per essere un Lewandowski Toz che secondo me è molto molto valido che se ne dica prega siamo arrivati in fondo a questo appuntamento vi ricordo che la rubrica termina qui per quest'anno ho felato il cambio di scena immaginavo che l'avrei fatto comunque la rubrica termina qui per quest'anno spero che insomma vi abbia tenuto compagnia non temete perché sul canale continuano ad arrivare contenuti in descrizione trovate come al solito le info per le live giornali sulla piattaforma viola a me non resta altro che salutarvi regà un abbraccio nel saluto Nari Berowski bella ciao